No, no, troppo corposo. Guardi, le gocce sono enormi. Noi dobbiamo fare un thriller, capito? Occorre una pioggia più tagliente, ecco, più secca, capito? Ma allora mi scusi, ma mischiamola con la nebbia. L'è anche più bello, no? Si vede un cazzo e ti piova addosso. L'assassino, un bell'impermeabile lungo fino a piedi nero, è bordo a scortellare a destra e magno. No, 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 lei non sa la storia. L'assassino si figura è un pappagallo. Vabbè, ma allora, scusi, sei l'assassino, allora... Chi è passato? Chi è passato? No, dico ora, oltre la pioggia, chi è passato? Ah sì, una ragazza con il golfino bianco, perché? Allora ha visto anche lei, non è che l'ho vista soltanto io. Ma certo, perché? È un ologramma? Un vostro effetto ottico speciale?